Buongiorno, oggi vorrei passare ad un ulteriore aumento, un aumento senza direzione, un aumento molto molto semplice, in inglese è noto come KFB, cioè Knit Front and Back, in italiano lo chiameremo anche DDD, cioè diritto davanti e dietro, vediamo un po' come si fa, è veramente uno degli aumenti più semplici, non ha direzione, come dicevo, ha la particolarità che ha una leggera barretta sulla lavorazione successiva, per cui diciamo che siamo arrivati al punto, prima facciamo un diritto, dopodiché senza scaricare la maglia dal ferro di sinistra con il ferro di destra entriamo dal retro, come dire, cioè diritto ritorno e lavoriamo un altro diritto, sempre all'interno della stessa maglia, ecco che da una maglia ne abbiamo due, visto? Solo a questo punto noi scaricheremo la maglia dal ferro, eccolo qui, Knit Front and Back, DDD, alla prossima!